ehi standard c'è 20 kg disco 10 10 10 del quarto lato e fai in fai con i box 24 ig 24 ig box standard 8 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 9 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 17 19 19 20 20 22 22 No un minuto di quinto di quinto dai minuto e quaranta dai due minuti un minuto muoviti dai due e trenta dai quindici secondi dai dai cinque tre due uno e stop bene non 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 Sì Un minuto eh In caso mi metto un po' dietro Ho preferisci metto leggermente di lato Quasi 40 secondi Ciao Rosy Sposto un po' Ora è figa Sì quasi è un figo Quattro e cinquanta Cinque secondi Due Uno Via Sì Quattro e cinquanta 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 è passato un minuto è passato un po' di gioco 6.37 7 minuti 7.25 7.25 1 minuto e 10 manca un minuto 8.25 e 20 30 secondi 9.25 9.25 2.1 un minuto di pausa 9.25 9.25 10.25 10.25 si vede si vede lo vado a fare ah li fai l'altro 20 secondi si inizia 50 5 4 3 1 via Grazie a tutti. Due minuti. Un minuto e trenta alla fine. Sì, dai! Amore, non portate, dai! Dai, dai! un minuto 30 secondi spingi ora non mollare che uno è importante 10 5 stop vabbè totale 96 smontati tutti ma fagli dai davanti ascolta vuoi di prendere da 1 o 2 stai inquadrati fagli dai mezzo due e mezzo mezzo riscaldi 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 Che c'è qualcuno che mette di più dal dato e meno dall'altro Sarebbe folle E stop Grazie